...e anche Brother Patrick con vicino Ionio, poi a centro gruppo Jung, Awareliaso, Rustic Reef, Camon Sassa, Sulficio Rufo, i cavalli fanno il loro ingresso sulla grande piegata di fondo, si incaricano sempre dell'andatura Long Dart e Street of Fire, poi vediamo Grit, Aspect con Zaezum in scia, poi anche Amadeus Rock, poi Bella Moon, i cavalli stanno per ultimare la piegata di fondo, vediamo che fanno ora il loro ingresso in dirittura d'arrivo con Long Dart pressato sempre da Street of Fire, Long Dart è un cavallo che ama correre all'avanguardia, è sotto la minaccia di Street of Fire, ma il traguardo è ancora lontano, siamo soltanto all'intersezione delle piste, ancora non ha esaurito la sua azione, la sua spinta Long Dart, però vediamo Grit, Aspect, poi Rustic, Reef, Jung, Barzini che è della partita, poi vediamo Zaezum quando mancano 400 metri alla fine della corsa, Zaezum è ancora in vantaggio ma è attaccato da Grand Tour, è un finale straniero con Zaezum alla frutta, attaccato da Grand Tour, poi vediamo anche Aua Releazo e finiscono in un fastaletto, Zaezum, Grand Tour, Aua Releazo, un successo tutto britannico, tutto inglese, davvero una sconfitta pesante per i portacolori di scuderia italiana, non so se abbiamo la possibilità... Grazie a tutti!